Il piano provinciale di ricerca a persone scomparse attivato dalla Prefettura di Agrigento giovedì mattina 25 gennaio per rintracciare Giuseppe Alaimo di Racalmuto si è concluso con esito negativo dopo sei giorni di ricerche. Il piano coordinato dal capitano della compagnia dei carabinieri di Canicattì Mario Amengoni ha coinvolto la Prefettura, il sindaco, i carabinieri della stazione di Racalmuto e delle stazioni limitrofe, i vigili del fuoco di Agrigento supportati dalle unità cinofile di Catania, di Siracusa, di Enna e di Palermo, la protezione civile del libero consorzio comunale di Agrigento, diverse associazioni di volontariato, la polizia municipale, la protezione civile del comune di Racalmuto, la polizia provinciale, gli operatori del libero consorzio di Agrigento, un'unità cinofile a lupi di Agrigento attivata dalla Soris, due unità cinofile della polizia di Stato di Palermo. Per sei giorni due unità mobili, una della protezione civile del libero consorzio e quella dei vigili del fuoco hanno coordinato le operazioni di ricerca dalla fondazione Leonardo Sciascia. È stato utilizzato anche un drone messo a disposizione da un cittadino privato, 50 operatori indivise e squadre munite di GPS hanno battuto il territorio secondo il programma previsto dal piano provinciale che contemplava inizialmente un'area da bonificare pari a 400 ettari dal punto dell'ultimo avvistamento. Le ricerche hanno riguardato il centro abitato e le zone periferiche, in particolare i controlli hanno interessato le aree limitrofe alla ferrovia, le zone di campagna abitualmente frequentate da Giuseppe Alaimo. Nel corso delle operazioni sono state raccolte anche altre indicazioni che hanno esteso i controlli in ulteriori zone, raggiungendo infine un totale complessivo di 463 ettari bonificati. Alle operazioni hanno partecipato anche i cittadini volontari che hanno voluto supportare le squadre, alcuni con l'ausilio di cavalli. Tante le associazioni di volontariato coinvolte, un lavoro di grande impegno e sinergia che ha rivelato la professionalità e la competenza delle forze in campo, la capacità logistica di coordinamento dei vertici delle forze dell'ordine. Il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei vigi del fuoco, il commissario del libero consorzio comunale di Agrigento si sono recati a Racalmuto per testimoniare la vicinanza e la solidarietà dei vertici istituzionali alla comunità e hanno voluto incontrare il personale impegnato nelle ricerche ringraziandolo per l'impegno profuso. In prima fila per tutta la durata del piano, assieme all'Angelo Salamone della prefettura, ai vigi del fuoco e al geologo Marzio Tutto lo Mondo della protezione civile del libero consorzio, i carabinieri della locale stazione guidati dal comandante maresciallo Alessandro Costa che in stretto contatto con il capitano Emengoni ha coordinato il lavoro di tutte le squadre, la polizia municipale guidata dall'ispettore capo Nicola Sferrazza e il responsabile comunale della protezione civile di Racalmuto Diego Salvo. Il sindaco Emilio Messana ha seguito personalmente le operazioni mettendo a disposizione mezzi e risorse per agevolare l'esecuzione del piano provinciale delle ricerche ed ha ringraziato tutto il personale che si è avvicendato nelle operazioni. Purtroppo, nonostante le forze messe in campo e l'ampia estensione dell'area perlustrata, nessuna traccia di Giuseppe Alaimo è stata trovata. Esaurita la programmazione concertata, il piano di ricerca è stato temporaneamente sospeso nell'attesa di ulteriori indizi da sviluppare.